Un cantiere nel bel mezzo di una strada, trafficatissima tra l'altro nei pressi di una scuola, non è il massimo della vita? No, più che poi su una strada, addirittura su un marciapiede e pista ciclabile. Contemporaneamente parliamo appunto della pista ciclopedonale di Viale Italia, importantissima perché è un tratto di attraversamento, di passaggio, di piedoni e ciclisti, normalmente nei giorni di classico percorso, ma anche invece molto importante quando riapriranno le scuole a breve, perché conduce sia le scuole del Poderino ma anche in direzione opposta verso il polo scolastico dei licei. Quindi in alcuni orari veramente preso d'assalto da ciclisti e pedoni, fortunatamente hanno finalmente da qualche anno una via privilegiata per percorrere questa via Viale Italia. Oltretutto Viale Italia è diventata anche un po' più trafficata dal punto di vista automobilistico dopo l'apertura degli interquartieri. Oggi abbiamo appunto un cartiere proprio sopra la pista ciclopedonale, quindi con inevitabili malumori ma anche difficoltà da parte di chi prende la bici e chi va a piedi. Quindi in una città dove c'è lo slogan principale è fanno città dei bambini e delle bambine e poi oltretutto a fine dell'anno scorso scolastico è stato riattivato a scuola ci vado da solo e questa è una delle arterie principali che vengono proprio percorse dai bambini che vanno a scuola da soli a piedi. Ecco ci pare una cosa abbastanza, diciamo un controsenso enorme. Ecco noi appunto chiediamo che questo tratto venga assolutamente liberato dal cantiere anche perché altri cantieri precedenti sulla stessa via non avevano occupato questo spazio e quindi ecco la richiesta è che appunto questo venga rimosso assolutamente.